La seconda tornata alla Domus Bet Beach Arena sorride alla 2M Moto che parte forte e chiude con un terzo periodo meglio interpretato rispetto alla giovane meridiana Beach Soccer che si arrende per 4 reti a 2. Dicevamo di una partenza forte per la 2M Moto che al secondo minuto passa in vantaggio con la rete di Sergio Sciuto che trasforma il tiro libero piegando le mani di Andrea Zumbo e poi si ripete pochi minuti a seguire con una conclusione tutt'altro che irresistibile. La 2M Moto sfiora il Triss con la traversa di Giuseppe Sciuto ma vede avvicinare la meridiana in gol con la rete di Gabriele Pundirelli proprio sulla conclusione della prima fazione di gioco. Nei secondi 12 minuti le due squadre si confrontano ad armi pari creando varie occasioni da rete tuttavia non sfruttate. Ci pensa Danilo Di Maggio il numero 4 in maglia bianca a riportare il risultato in parità. Nella terza ed ultima frazione di gioco la 2M Moto potrebbe subire il colpo. Dicevamo è fermito va sul tiro libero per bene 3 volte. La prima volta è la traversa a dire di no e le altre due occasioni Bertani prima e la imprecisione negano ragione della rete. Nel finale di gara ha la 2M Moto ad avere più birra in corpo. Sergio Sciuto che aveva sfiorato il gol del 3 a 2 non fallisce davanti al portiere Zumbo ed è lui a chiudere definitivamente il conto con la tripleta. Anche se poi ci pensa Sergio Nicota con una sola vincente a piazzare il punto del 4 a 2. Con questa vittoria 2M Moto a 6 punti nel classico la meridiana rimane a vuoto. 3 punti. Sì è stata una partita difficile perché comunque eravamo in pochi. Inizialmente eravamo in pochi secondi e quindi la stanchezza si è fatta sentire. L'allenamento non c'è. Quindi siamo stati fortunati con alcuni gol. Ovviamente la sabbia ci aiuta perché con il rimbalzo della palla il portiere un po' si confonde. Però alla fine ce l'abbiamo fatta con l'ingresso anche di Nicotere che ha fatto il quarto gol. Ci ha aiutato anche lui e ci siamo andati bene. Il bichisocca era uno sport dove tutto può accadere anche nell'arco di pochi secondi no? Quindi il successo non era mai rassicurante. Eh sì esatto infatti perché c'è magari un mentre stai vincendo di due gol avanti e ti possono fare altri tre golli nel giro di 30 secondi. Quindi c'è molto difficile. C'è un altro sport totalmente un altro sport il bichisocca. In questi due giorni che verranno sabato e domenica cosa ci dobbiamo attendere dalla vostra squadra che ha già sei punti. Tre vinte a tavolino di fatti quest'oggi. Tre invece in cassaforte perché poi Riccione è anche una bella località dove magari si può sognare di passare una bella vacanza e ancora prima però bisognerebbe andare a Catania. Sì esatto. Diciamo che il nostro obiettivo è intanto vincere e divertirci e comunque sì sperare di vincere sempre. Riccione è un'ottima meta. Speriamo di arrivarci tutti magari ci facciamo questa vacanza dai.